Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi è quel magico momento dove andremo a recuperare un set incredibile, incredibili difensori. Non volevo fare la battuta, ma l'ho letto nello schermino qua e ho detto, vabbè, è cringe, ma diciamola. Allora, non l'ho aperto perché non avevo tempo, ma soprattutto perché all'interno non c'era assolutamente niente che valesse la pena di essere sbustato. All'uscita, nel pratico, era merda. Però, però diciamo che è successa una cosina. Tier è stato sfondato e quindi si è deciso di optare per la versione con le Mikanko e quindi tipo il rituale è schizzato a una cosa come 40€. E chi sono io per privarmi di questi 40€? Assolutamente nessuno. Poi ci sta una bella collector che è il Gismac che non mi dispiacerebbe sbustarla, né quella né la truppa della carta se non sbaglio. Boh, vabbè. Diciamo che a livello derare e dei collector non sono incredibili, però diciamo che c'è posto, sta. Nel senso, se me esce, sicuramente non me ne lamento. Detto questo, vi ricordo che se volete recuperare questo set, e secondo me ci sta, considerando il fatto che le carte sono salite, trovate il link del mio sponsor, Cargaming Corner, qua sotto in descrizione. E col codice sconto 2023 cappella avete il 10% di sconto su prodotto sigillato o carte singole. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragball, One Piece, Forza Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Scrivetemi, mandatemi le foto di quello che avete e nel caso se ne può parlare. Poi vabbè, baratteremo le vostre carte con i miei soldi, nel pratico. O, se vi serve anche qualche carta, le baratteremo con altre carte. Detto questo, procediamo con l'opening. Allora, parliamoci chiaro, io su questo set non ho aspettative. Cioè, lo apro perché dovevo realizzare un reel stasera, ma non avevo assolutamente voglia. E quindi, ho pensato, ma perché non recuperiamo l'opening di questo set prima che Card Game Corner se ne accorga? E quindi, andiamo con questo. Comunque, cosa che succede sempre, Luca a Gaming Tonight ha fatto schifo in questo set. Quindi, ho un'enorme possibilità di trovare sia la Collector che della roba Mikanko che costa. Allora, andiamo con la prima bustina e vediamo. Comunque, vabbè, i tre archetipi che troviamo qua dentro sono le Mikanko, queste robe brutte e una roba che, tipo, so, i... A me viene Furry, ma non so un Furry, vabbè, a parte che so, animali. Comunque, come reprint, abbiamo, vabbè, la mappa di Piri Race, che è carina, ma ce l'ho Secret. Della roba Infernovel, vabbè, su Ravis, carino, ma nel senso c'è Ultra che non sta un cazzo, vabbè. Duplicazione di macchina, anche questa carina, e Gierfried Fenice Immortale, che, tipo, fino a tre mesi fa stava una cosa come 20 euro. Perché, se non erro, usciva da Tocche e non era mai stata reprintata. Allora, secondo pack abbiamo Rimozione di Limite, il secondo archetipo che è Salvataggio Asso. Poi, ah, Purryli si chiama, questo archetipo, vabbè. Truppa della carta, la cerimonia grande, Mikanko, roba fotonica e Salvataggio Asso. Non ricordo se in ogni pack c'è una foil, ma a questo punto, visto che siamo due su due, probabilmente sì. Allora, abbiamo carte Purryli, truppa, roba Gizmec, carta Mikanko, Rimozione di Limite, contenimento e stessa carta di prima, incredibile. Allora, se non erro, all'interno di questo set dovrebbero esserci tre Ultra, o quattro, una roba del genere. Speriamo di essere fortunati. Abbiamo Renault, Preparazione Riti, che questa è buonina, Salvataggio Asso. Che, se non sbaglio, qua dentro ci dovrebbe essere una carta Nobili Cavalieri. Ma stiamo scherzando? Ah no, non è lo stesso. Allora esce un Link carino, che si gioca o in Infernobel o in Nobel. Non me lo ricordo, adesso vediamo. Speriamo di sboostarlo, perché Monopair di quello mi serviva. Allora, abbiamo Rivalità Mikanko, spada a doppio taglio. Puoi controllare solo una, vabbè, di queste in campo. Il mostro equipaggiato guadagna 2000 ad attacco. Inoltre, entrambi i giocatori subiscono qualsiasi danno da combattimento ad attacchi che coinvolgono il mostro equipaggiato. Se subisci 2000 o più danni da combattimento, manda questa carta a Civitero. What? Poi, vabbè, contenimento, estinguere, rondo riflesso, poi benedizione e Link plurale. Allora, andiamo col prossimo pack. Abbiamo Importazione Xyz, poi Promessa Mikanko, Rivalità Xyz, Duplicazione Macchine, Salvataggio Asso, Spada e Ex Pureli. Difficoltà sto mazzo. Non ricordo se c'è qualcosa di costoso in questo archetipo. Forse la magia o la Ultraswan. Allora, abbiamo poi carta Gizmec, Salvataggio Asso, Rinascita Xyz, Importazione Xyz, Sauravis, Inferno a Belialme e Rigenerazione Sovrapposta. Carta Bellina è super, il problema è che non si gioca. Se non sbaglio diventava un materiale Xyz, tipo una roba del genere. Vabbè, poi Danza alla Purificazione, Gizmec, Preparazione, almeno la seconda, Rinascita, Truppa, Strada e Renault. Boh, stai, Infernobili Cavaliere, non è il mazzo che ricercano tutti, eh. Poi abbiamo la seconda mappa, la terza preparazione, ottima, Rivalità, Rinascita. Poi abbiamo Rondò, Benedizione e carta Plureli, Expureli. Vabbè, è un po' un parto attualmente, vabbè, siamo quasi a mezzo box e non è uscita neanche una ultra. Poi carta Gizmec, Estinguere, Sauravis, Armeria e carta Magia Mikanko. Un link forse è quello di cui vi parlavo prima. Allora, abbiamo mappa, rinforzi, il primo poi, che poi, che senso c'ha, l'hai ristampato raro da Kiko? Oh, ecco, quella che vi dicevo ragazzi, Isolde. Anche questa non è male, da mettere nell'album delle staple. Bene, diciamo che il mio l'ho fatto. L'importante era trovare le tre preparazioni e gli Isolde, che almeno ce l'ho per me. Poi abbiamo Estinguere, Pergamena, Duplicazione, carta Gizmec, Preparazione e... Wow! Salvataggio Asso, che cosa incredibile. Prossimo pack, messaggio, è un'altra super. Vabbè, abbiamo mappa di pre-race, salvataggio, Sauravis, Drago Protettore, Eppureli, Pada e Mostro Mikanko. Non credo sia niente. Poi, poi, dai, ci stiamo avvicinando. Forse probabilmente, sai, mi darei tutto il Mikanko Ultra. Allora, abbiamo Rinascita Exis, Memoria, Felicità, Gizmec, Drago Protettore, Importazione e wow, un'altra super. Beh, che sto facendo una e una per fila, però... Inizio ad avere qualche dubbio che la foil... Che, cioè, che le vere foil, no, le super, non ci siano. Abbiamo, allora, Promessa, Salvataggio, Rivalità, Gizmec, Contimento e... Ho la prima ultra. Abbiamo... Wow, allerta, cazzo. Voglio morì, dopo andremo ad aprire Car Market e vediamo un attimo a quanto stanno, perché... Ho la netta sensazione che almeno quella stia a 20 centesimi. Strada, Rivalità, Salvataggio, Asso e la Mikanko Fuoco. Ne manca solo una, manca la gialla. Altra super, dovrebbe essere la pure lì. Benedizione, Importazione, Memoria, Duplicazione, Spada e... Infatti... Dai! Qua sento puzza di ultra rituale, eh. No, è un... Nixis. Guarda. Guarda quanta merda. Questa è tutta... Tutta carta che nel cammino andrebbe benissimo. Cioè... Dai, no, raga, siamo arrivati a fine boxe e non sono uscite le ultra. Io posso sbroccare a un certo punto, mi è concesso. Salvataggio, Asso, Spada, Mappa Iperi Race, La Cerimonia, Importazione, Rinforzi e... Ragazzi, non si può assolutamente sbustare così de merda. Drago Protettore, Rivalità, Salvataggio, Infernobili Armi, Kagura, Purreli Salto e... Ragazzi, sono rimasti tre pack. Più questo, intendo. Non so, eh... Questa dovrebbe essere un'altra super, eh. Perché tanto è... È un link... Sì, un link. Unixis. Guarda. Questo lo sento bello cicciotto. Dai. Lo apro dopo. Allora, qua c'è... Non dico che ci devono essere tre ultra, ma almeno due. No, ma a sto punto... Cioè, lo so che non c'è... Non c'è niente. Non lo so quanto sta. Non lo so e non lo... Ragazzi, veramente. Non lo so e non lo voglio sapere. Abbiamo... Triba Rivalità, Salvataggio, Spada, Preparazione Riti, Truppa... No, e... Qua non c'è niente a sto punto. Ho levato proprio il pack dove non c'era assolutamente niente. Guardate. Grazie. Guarda. Almeno lui, eh. Unica soddisfazione. Adesso... Così, per ride, eh. Andiamo a vedere quanto stanno le carte, perché qua è veramente da piangere. Assolutamente. Allora, vediamo, vediamo, abbiamo questa pure lì. Queste sono i collector. Sarebbe stato bellino trovare i soldi, eh. Peccato. Poi, vabbè, abbiamo le Mikanko. Ecco, questa. Questa volevo spustare, porca troia. Sta a 30 euro. È un po' calata, eh. Rispetto a prima. Però, cazzo. Cioè, mettevo la firma a trovarla. Poi, poi, vediamo. Oh! Ma che significa? Aspetta, io qua le ho trovato. Perché sicuramente non ho trovato lei. È la sorella bastarda. Che dovrebbe stare a qualcosina meno. Abbiamo trovato, quindi, sto schifo. Sta a quanto? 7 euro. Wow. Aspetta, almeno in italiano. Dai, dai, dai. La prima inita sta a 3 euro. Incredibile, ragazzi. I soldi che ho fatto. Siamo a 10 euro. Guarda, la soddisfazione è aver trovato quelle carte che mi servivano. C'ho solo un dubbio su One for One. Se è limitato o meno. Spero sia limitato. Almeno così una l'ho trovata e sto a posto. Diciamo che non devo più recuperare niente da questo set. Eh, fatemi vedere cosa ha sbustato quel bastardo di Luca. Che, vabbè, anche lui aveva fatto abbastanza schifo, quindi. A lui è andato un pochino meglio rispetto a me. Però, nel senso, neanche lui ha beccato l'amica anche bella ciotta. Vabbè. Oh. Tanto è un set delle collector. Si busta la collector e chiede troppo. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero, come sempre, vi sia piaciuto. E fatemi sapere, qua sotto, con un commento, cosa ne pensate di questo set. Se l'avete sbustato e, nel caso, cosa. Perché io sono sicuro che voi avete sbustato truppa della carta collector. Che avete sbustato l'amica anche rituale. Che avete sbustato i soldi collector. Quella me ne sarebbe gustata. Vabbè. Detto questo, ragazzi, con oggi abbiamo finito. E noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.